L'istituzione sinfonica abruzzese ha inaugurato la sua cinquantesima stagione con un omaggio a Giacomo Puccini. La chiesa di San Silvestro all'Aquila ha ospitato infatti il concerto inaugurale Puccini 100, un evento che celebra il centenario della scomparsa del grande compositore. Il programma diretto dal maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli ha visto l'esecuzione della messa del cardinale Domenico Bartolucci e della messa di gloria di Puccini. Il mondo ha bisogno della preghiera e il mondo ha bisogno del canto che arriva all'anima per innazzare lo spirito. Quindi come ambasciatore di Giacomo Puccini nel mondo io sono felice di essere in questa città stupenda con la direzione del maestro Jacopo Sipari. Jacopo Sipari di Pescasseroli ha sottolineato l'importanza di esplorare l'aspetto sacro della produzione pucciniana. Questo sacrum assume un carattere particolare, in particolar modo chiaramente per me che ho dedicato la mia vita a Giacomo Puccini, quindi sicuramente è per me particolarmente interessante, ma per tutti quanti perché proponiamo veramente un Puccini inedito che si affianca a Domenico Bartolucci che invece ha fatto della religione la sua vita. L'evento, organizzato in collaborazione con il Sacrum Festival, ha visto la partecipazione di giovani talenti del Conservatorio di Musica Alfredo Casella dell'Aquila e dell'International Opera Choir. Questo concerto è un momento di grande emozione per noi, ha dichiarato il presidente dell'istituzione sinfonica abruzzese, Bruno Carioti. Questo era l'unico brano che poteva concedere, darci la possibilità di celebrare in una maniera adeguata e dovuta ad un genio totale quale è stato Giacomo Puccini, quindi era l'unico modo per poter celebrare contestualmente l'inizio di questa cinquantesima stagione dell'istituzione sinfonica abruzzese che per me non è un traguardo ma è una tappa. Insomma, l'Aquila ha visto celebrare la musica sacra di Giacomo Puccini e l'istituzione sinfonica abruzzese ha inaugurato l'ennesima stagione con un concerto speciale dedicato davvero a un grande compositore.